Porto i saluti del magnifico rettore il professor Giorgio Zauli e anche del direttore di dipartimento il professor Paolo Tanganelli che purtroppo non possono essere qui perché hanno impegni istituzionali per chi come noi vive l'università. Sapete benissimo che questo è uno dei mesi più densi di impegni in cui si sta a pianificare l'attività didattica del prossimo anno accademico. Sono particolarmente lieto di questo convegno perché per chi non mi conosce il segno storia romana e quindi capite bene quanto è interessante questo convegno anche per noi che ci occupiamo di storia romana. E nel contempo per chi non lo sa sono anche referente di due progetti importanti che sono Adriatlas e Cisa. Adriatlas è questo grande progetto di, lo dico in maniera sintetica visto che siamo stretti con i tempi di un atlante sull'Adriatico che è un progetto che ci vede coinvolti con tanti gruppi di ricerca. È un progetto coordinato come sapete dal professor Francis Tassot. È quindi un'occasione per me, dicevo, particolarmente felice e vi auguro un buon lavoro e che appunto questa giornata e questi incontri possano essere forieri di risultati e anche di riflessioni perché sono il momento in cui abbiamo l'occasione di condividere anche non solo le nostre ricerche ma soprattutto le nostre idee. Grazie e buoni lavori. Sì, allo stesso modo portiamo anche a nome di Maria Paola Castiglioni le scuse del professor Verge che allo stesso modo non è potuto essere presente ma che manda i suoi saluti ed è molto dispiaciuto appunto di non essere qui con noi. Io volevo dare la parola prima di cominciare a Roberto Marcucci, direttore dell'Erma di Bershneider, perché cominciamo un po' dalla fine, nel senso iniziamo subito a parlare degli atti di questo convegno. Prego intanto se può venire, perché il convegno ci dà l'occasione di iniziare un nuovo percorso con la collana di studi Adrias con una nuova serie che si aprirà proprio con questo convegno. Quindi tutti voi troverete nella vostra borsa già le norme editoriali, perché vorremmo essere abbastanza veloci e far partire la nuova serie di Adrias già nel 2019. Quindi a questo punto lo dico subito io, vi chiederemo i testi entro il 30 settembre e vi pregheremo di tenervi all'interno dei 40.000 caratteri. Poi vi manderemo ovviamente una mail con tutte le informazioni, ma già troverete appunto non solo il catalogo dell'Erma, adesso passo subito la parola, in cui potete vedere gli scorsi numeri, la vecchia serie di Adrias, le vecchie uscite, ma appunto troverete le norme. Passo la parola a Marcucci direttamente. Buonasera a tutti. Non faccio altro che ribadire saluto tutti i presenti professori, professoresse italiani, francesi che sono qui presenti. Io ho un incarico dalla dottoressa Dubini di essere severo, quindi cercherò di convincere gli autori che sono presenti a essere puntuali nelle consegne, a non avere ripensamenti, aspetti editoriali banali, che devo dire, e che poi questo qui consentirà la pubblicazione veloce e la distribuzione. Il vostro compito è scrivere, il nostro è quello di distribuire. Una battuta, cosa fa un editore, scrive i libri, no, quello lo fanno gli autori, cosa fa, li compone, no, quello lo fanno i compositori, cosa fa, li distribuisce, no, li fanno i distributori, cosa fa, quindi un editore, tutto il resto, che sono tante altre cose. Quindi il nostro compito principale è la distribuzione attraverso canali italiani, europei, americani, cinesi, adesso anche in Cina saremo presenti a questo per la quarta volta consecutiva alla fiera del libro di Pechino, e lì i cinesi comprano tutto perché ci sono duemila università e poi anche forse saprete che nel diritto romano i cinesi hanno adottato il diritto romano come base del loro nuovo diritto e quindi ci sono sviluppi immagino importanti nel futuro. Quindi questo sarà il nostro compito, grazie a voi, grazie e buon lavoro. Io ringrazio ancora il dottor Marcuccio di essere venuto proprio per fare questo saluto e do subito la parola, invito appunto il professor Raviola che è il nostro chairman del pomeriggio, e invito anche il professor Braccesi a prendere posto qua, Flavia. Quello che non ho detto, visto che Lorenzo Braccesi è qui, è che la nuova serie di Adrias si inaugura con una nuova, non solo direzione, ma codirezione, perché qui vorrei ringraziare veramente pubblicamente Lorenzo Braccesi, perché la nuova serie è diretta da lui con la mia codirezione. Grazie Lorenzo. No, sono io che ringrazio Rachevo, sono io che ringrazio Rachevo, sono io che ringrazio Rachevo, perché se noi non associamo forze a Giove, quindi non c'è un'attività di Rachevo, e quindi mi sono stato molto molto contento di conoscere Rachevo, e di gioire anche di questa sua capacità organizzativa, di questo fuoco di iniziativa e della sua bravura, perché ho letto i suoi lavori. Quindi sono io che ringrazio. Bene. Un'altra cosa che non ho detto e ringraziamento che non ho fatto è al centro SEA, rappresentato ancora una volta dal professor Zerbini e poi appunto dai tecnici che ci seguiranno oggi e domani, perché come sapete il convegno è in diretta streaming, è stato creato un canale YouTube apposito, e questo dà la possibilità a tutti quelli che non possono essere qui con noi di seguirci anche da lontano, quindi grazie ancora. Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qua, un po' sorpreso nel ruolo di presidente, a cui non sono assolutamente abituato, ma comunque è anche un onore, quindi ringrazio Rachele e gli altri organizzatori di questo convegno che si annuncia molto interessante, come peraltro era già interessante quel poco che sono riuscito a sentire già in mattinata del workshop. Presentare Lorenzo Braccesi per me è quasi un po' imbarazzante, dato che è il mio vecchio professore di Torino, ecco. Quindi taccio, salvo ricordare che per me si identifica con molte cose, in particolare ovviamente con l'Adriatico, su cui è tornato ripetutamente dopo Grecità Adriatica con le due edizioni del 71 e del 77, ma appunto con una riflessione che si è protratta e si è costantemente rinnovata, quindi è un piacere presentarlo, anche se mi vuole tacitare, quindi io a questo punto lo esaudisco e passo direttamente la parola. Il titolo dell'argomento è l'Adriatico spazio del limite, abbiamo mezz'ora di tempo per ciascuno prima del break delle 16.30. Bene, grazie Lorenzo. Prima, cinque minuti prima? Sì, sì, faccio dei rumori. Bene, questo microfono tende a calare. Io sono grato e ringrazio Rachele, Maria Paola Castiglioni, gli organizzatori di questo convegno. Ma perché devo avere un microfono che non sta in piedi? No, basta così. E vorrei dire che sono particolarmente lieto di trovarmi assieme a colleghi d'Oltualpe, ricordando l'affatellamento culturale e civile che lega le nostre nazioni, più volte definite in Francia e in Italia, le sorelle latine. L'oscurantismo e l'ignoranza degli attuali governanti italiani non possono farne velo. E vengo al tema della chiacchierata adriatico. L'Adriatico è il mare che in età preromana veicola nell'Europa transalpina i primi influssi della civiltà greca. L'Adriatico è il mare che in età successiva diventa un lago romano con fondazioni cittadine che si affacciano su entrambe le sue sponde. L'Adriatico è il mare che nel crepuscolo dell'età antica ospita in Ravenna, posta in comunicazione marittima con Costantinopoli, l'ultima sede dell'impero di Occidente e quindi la residenza dei primi regni romano barbarici. Basterebbero solo queste scarne notazioni per attestarci l'estrema importanza della storia dell'Adriatico Scusate, non ho spento il telefono. Dicevo per attestarci l'estrema importanza della storia dell'Adriatico su un arco cronologico di lunghissima durata, Ionios o Adrias Colpos per i greci, Adriaticus Sinus per i romani, Golfo di Venezia per i sudditi della Serenissima. Un mare nell'immaginario collettivo non facile da navigare perché la costa occidentale si presentava priva di porti e di apodi sicuri, ne sa qualcosa Maria Cecilia d'Ercole, dalla cui pagina ho imparato molto davanti a me. Mentre la costa orientale, che era protetta da cordoni insulari e ha una conformazione geografica opposta, la costa orientale era esposta al rischio della pirateria, che per antichi e moderni costituisce e ha costituito l'endemico flagello per la frequentazione commerciale dell'Adriatico. In ogni tempo, infatti, tutte le potenze che tentano di egemonizzarne le rotte devono preoccuparsi di reprimere la guerra da corsa, dai Rodi ai Foccei, dai Corinzi agli Ateniesi, dai Siracusani ai Macedoni ai Romani, dai Bizantini ai Veneziani. Ma quale, fino dall'età più antica, l'importanza dell'Adriatico? E' costituita dal fatto che ai suoi poli terminali arrivavano materie di lusso come l'ambra o lo stagno sconosciute nel mondo mediterraneo e ricercate per la produzione di manufatti di lusso o di leghe pregiate. In particolare, la preziosa resina baltica nell'immaginario collettivo viene presto trasfigurata nel mito delle Eliadi, cioè delle sorelle di Fetonte che presso il Delta Padano piangono in eterno lacrime di amba per dolersi della morte del loro fratello, rimasto vittima, lo sappiamo tutti, guidando il carro del sole, rimasto vittima del primo incidente aereo della storia. Ma a lato di quella di Fetonte in numeri sono le storie leggendarie che coinvolgono sulle rotte dell'Adriatico eroi navigatori a partire da Ulisse in una assai poca nota localizzazione delle sue avventure. Il concetto di spazio del limite ci riporta all'età arcaica e l'evocazione di Ulisse alla proiezione del suo nostos nei mari di Occidente. Ma quali i primi greci che se ne rendono interpreti? Non c'è dubbio, sono gli eubei. Infatti, in una serie successiva di studi ho avuto modo di riconnettere alla loro matrice, alla matrice oboica, la prima codificazione della geografia dell'Odissea, sottolineando come le tappe delle pregrinazioni di Ulisse che nel testo merico sono prive di ancoraggi geografici quindi possono essere messe dovunque come le tappe, dicevo, delle pregrinazioni di Ulisse questo microfono mi dà un fastidio terribile no, ma ce la faccio sono di natura irascibile ma poi mi placo grazie sì, no, soffro perché si piega continuamente ecco oh, questo va bene quello che si piega lo prendi tu che tanto parli poco e quindi va benissimo io poi parlo a braccio dicevo che le tappe delle pregrinazioni di Ulisse si accompagnano nella loro leggendaria localizzazione occidentale al graduale divenire dell'avventura coloniale di Calcide e di Eretria sicché in più regioni del Mediterraneo possiamo riscontrare l'esistema di sistemi circoscritti di codificazione della geografia dell'Odissea di fatto sistemi a sé stanti o in sé compiuti e successivamente superati da un loro spostamento in aree di più avanzata conquista coloniale ciò comporta che il teatro delle avventure di Ulisse sia estremamente mobile e si dilati in occidente tanto più lontano quanto in aree sempre più inesplorate si attesta l'attività del commercio euboico nel corso dell'ottavo secolo possiamo riscoprire il succedersi cronologico di tali processi di localizzazione odissaiche prima sulla rotta meridionale fenicia africana che conduce a Gibilterra poi sulla sponda orientale del nostro adeatico quindi sulla rotta settentrionale tirrenica che essa pure converge su Gibilterra ed è quest'ultima la localizzazione più nota che coinvolge i teatri coloniali e oboici della Sicilia e della Magna Grecia che avviene in seguito alla possibilità tecnica del transito attraverso il canale di Otranto ma prima di fissare la dimora delle sirene nelle acque di Sorrento o del ciclope nei anfratti dell'Etna gli ubei esplorano l'Adriatico lasciandovi traccia di un precedente e completo ancoraggio della geografia dell'Odissea l'accesso all'Ade è posto sul litorale dell'Epiro in Tesprozia per testimonianza di Posania i pascoli dei buoi del sole inviolabili intangibili e collocato sulla costa dell'Illirio meridionale nella piana tra Apollonia e Orico per testimonianza di Erodoto la sede di Circe è fissata in area d'Aunia presso il pomontorio del Gargano per testimonianza di Partegno di Nicea l'isola di Calipso è localizzata in area d'Almata tra Meleda e Mliet e i monti Cerauni per testimonianza di Apollonia Rodio la terra dell'Otofage è situata sulla costa della Dalmazia presso l'ignota città di Eraclea per testimonianza dell'Opseudo Scilace o di Scilace gli scogli di Scilla e Cariddi sono posizionati presso il pomontorio croato di Sabioncello Pelezac per indiretta testimonianza di Callimaco l'isola di Scheria è rubricata a Corci a Melaina Corciula nell'arcipelago d'Almata anziché nella Corci a Ionica per testimonianza di Apollonia Rodio o Inistria per testimonianza di Gino scusate la lista uniche e preziose le nostre testimonianze si rivelano ci rivelano una codificazione della geografia dell'Odissea davvero insospettabile per giunta divulgate in un'età quella classica o ellenistica nella quale si apprendeva sui banchi di scuola che la Scheria dei Feaci era da riconoscere nella più nota Corciua dell'Orionio o che l'isola di Ogigia era da ricercare non certo in Adriatico ma presso o d'oltre le acque dello stretto di Gibilterra i nostri testimoni vulgano schegge di una tradizione tanto arcaica che di fatto è anteriore allo stesso espansionismo degli Ubei al di là delle acque del canale di Otranto nel nostro caso di Ubei alle loro prime anzi primissime esplorazioni dell'Occidente anteriori alla loro possibilità nautica di scoprire e utilizzare la via del canale di Otranto la loro codificazione di siti odissaici si allinea armonicamente in direzione sud-nord alle progressive tappe di una navigazione di cabotaggio che dall'Orionio conduceva l'arcipelago d'Almata e oltre al di là del mare sulla sua opposta sponda già collocata in un remotissimo occidente era la reggia di Circe non a caso situata in Daunia cioè al terminal di una rotta di età protostorica la cosiddetta rotta micenea favorita dalle correnti attive tra le bocche di Cattaro e il pomontorio del Gargano dunque nell'età più arcaica l'area adriatica e spazio del limite per eccellenza dove non solo è attestata questa arcaicissima localizzazione della geografia odissaica ma pure è localizzata una prima sede del giardino delle esperidi lo documenta Ferecide logografo atteniese della metà del quinto secolo la cui testimonianza è tradita da uno scoglio ad Apollonio Rodio cito Ferecide nel secondo libbo dell'era maritata dice che la terra delle speridi produce meli che fruttiferano pomi d'oro e che le ninfe figlie di Zeus e Temide abitanti in una spelonca appresso le ridano insegnarono a Eracle che necessitava di saperlo da Nereo in qual modo carpire i meli d'oro gli elementi da valorizzare in questa tradizione relativa ai leggendari pomi delle speride sono i seguenti la menzione di un transito di Eracle lungo l'Eridano peritone ridanon e la presenza di un ninfaion di un ninfaion oracolare dove l'eroe Eracle si reca al fine di consultare Nereo che è una divinità marina l'Eridano che fosse già peresiodo e da identificare con il Po ho detto forse lo è certamente per ferecide a stare alla testimonianza di Igino feton fulmine ictus influmen padum cecidit ic amnis agrecis eridanus dicitur quem ferecides primo primus vocavit se poi il ferecide di questa seconda testimonianza fosse il filosofo di Siro anziché il logografo di Atene potremmo rialzare addirittura di un secolo la sua identificazione del ridono del ridono con il Po anche Eschilo lo conosce in ogni caso è sempre da tenere presente che i greci conoscevano le foci dei grandi fiumi dei grandi fiumi mediterranei e non l'alto corso né tantomeno le sorgenti ragione per cui nella loro riflessione il più delle volte sommano il dato geografico reale all'invenzione leggendaria in quanto al ninfaglion oracolare ubicato in una speronca presso le ridono Po esso evoca in area padana un'altra sede oracolare prepotentemente connessa al transito di Eracle e a pratiche di culturalità idrico salutifera penso alla sede notissima del santuario di Gerione in territorio apponense Eracle soprattutto in occidente e ipostesi sono libri bellissimi scritti soprattutto in Francia e ipostesi e simbolo dell'ardimento umano su strade impervie e inaccessibili la sua figura di odace pioniere si allinea con valore emulativo alle raffigurazioni mitiche degli argonauti e di Ulisse come gli argonauti sono gli esploratori delle vie segnate dal ralli dei grandi fiumi e come il secondo Ulisse è lo scopritore di sempre nuove rotte marittime così nella fantasia condivisa Ercle eroico cosmopolita è il mitico precorritore di ogni mercante greco o di ogni mediatore culturale su impervi percorsi montani impervi percorsi montani tra i quali domina lo scenario degli inviolati valichi delle alpi cozzie ovvero delle alpi marittime o degli appennini liguri dove la sua leggenda è veicolata tanto da marsiglia quanto dagli empori adriatici di adria e successivamente di spina in particolare adria e adria femminile è la città veneta ed etrusca che dà nome al mare adriatico o adria scolpos così come venezia la darà al golfo di venezia cioè sempre all'adriatico ma perché proprio adria da nome al mare in forma prima sittoriale o adria prima indicava ancora nel quinto secolo solo la parte nord dell'adriatica dal po all'istria al golfo del cuarnaro poi successivamente questo nome già col quarto secolo passa a indicare tutto il mare e ionio scolpos diventa il mare ionio ecco mi domandavo perché adria da nome al mare adriatico qual è la sua rilevante importanza agli occhi dei greci qual è il suo fascino nel romanzato immaginario collettivo è presto detto adria dove appodavano navi greche e pregreche e pregreche provienti da leggero e al polo terminale di due importantissime vie caroveniere attive già dal secondo millennio che collegavano l'alto adriatico al centro dell'Europa donde dal centro dell'Europa qui affluivano materiali preziosi come l'ambra o metalli rari come lo stagno o l'argento o prodotti grezi per la metallurgia ora l'una via proveniva dal Baltico e attraverso le valli dei grandi fiumi centro-europei guadagnava i valichi del Resia o del Brennero per poi ridiscendere lungo il corso dell'Adige fino ad Adria e al delta del Po l'altra via proveniva dall'area danubiana e attraverso la valle della Drava raggiungeva il crinale alpino per poi ridiscendere lungo l'Isonzo fino al Timavo e al Caput Adria e questa seconda la cosiddetta via argonautica che consente di raggiungere il Mar Nero attraverso l'asse carovaniero Isonzo Drava Danubio ma questa via cosa ha mai in comune con Adria che è nel delta Padano a prima vista niente ma di fatto ha una connessione strettissima infatti Adria Veneta Etrusca e poi Siracusana e in diretta comunicazione con la laguna di Venezia tramite un canale scavato dall'uomo percorrendo il quale le imbarcazioni antiche salpando da Adria potevano pervenire alle acque delle lagune Venete e quindi tranquillamente al Caput Adria con comoda e potetta navigazione endolagunare le sue vie commerciali più prossime erano date da canali fosse in latino il cui scavo ci è già documentato a partire dagli etruschi che lo sapete tutti primi frecere fossam e gesto amnis impetu per transversum in atrianorum parudes come ci dice Plinio duplice dunque l'importanza di Adria che recepisce le merci provenienti da due carovaniere transalpine per poi smestarle su rotte greche in area egea per tale ruolo unico ed esclusivo è appunto la città da cui prende nome il mare adriatico ciò ciò spiega perché i siracusani rifondatori di Adria nel quattro secolo si affrettino con la fossa filistina ripostinare ripotenziare una via d'acqua che certo doveva sussistere già dai tarremote spiega questa cosa altresì perché lo spartano cleonimo sul declinare del quattro secolo si sia inspiegabilmente diretto con una flotta da guerra nella laguna di Venezia non violava egli acque sconosciute ma acque frequentate dai marcanti greci già da molti secoli e dove l'immaginario ellenico aveva ambientato fascinose leggende riproposte per il pubblico atteniese dal teatro dei tre grandi tragici l'adriatico tramite il venetorum angulus che è il termine al più settentrionale del mediterraneo e così cito la via che porta in Italia e in Europa la civiltà greca come presago annotava Gaetano De Santis già all'alba del secolo scorso i commerci ad Adria sono prevalentemente corinzi e si incentrano nel VI secolo a Spina sono in forma preminente attici e si datano nel secolo successivo entrambi gli empori sono poi collegati con il versante tirrenico da una via dei due mari che attraversando in diagonale dell'Italia univa le foci del Po a quelle del Tevere questa via snodandosi grosso modo dall'area di Ravenna risale il corso del Savio per Cesena per Sarsina fino alla sorgente sul monte Fumaiolo dove nasce il Tevere per poi ridiscendere sull'opposto crinale della penisola e questa è la via ricordata forse nel sesto secolo da Scilaci di Carianta e certo nel quarto secolo da Luceo di Scilaci caroveniera che nella sua testimonianza valicato l'appennino defletteva dall'alta valle del Tevere in quella dell'Arno per pervenire a Pisa impiegando tre giorni di percorrenza di fatto condannando a morte Verrucchio e la direttrice della valle del Marecchia e questa una via attiva dalla remota protostoria la cui memoria leggendaria si incentra sulla città di Cortona così sembrerebbe a metà strada tra le foci del Po e del Tevere dove per l'anico in un fammento tradito da Dionigi dell'Icannasso sarebbero giunti i pelasgi che gli considera antenati dei greci qui c'è Dominique Brichel e non mia dentro in questioni che a lui sono molto care Cortona si ritrova così a essere l'epicentro di una carovaniera che bipartendo la penisola avrà per estremi in età classica spina e cere città etrusche che ospitano entrambe interi quartieri ellenici che vantano entrambe ricchi tesoroi nel santuario di Delphi che legano entrambe la memoria dell'actisis a un eroe dei nostri spina di Omede cere a telegono figlio di Ulisse di Circe se volete testimoniano Plinio e Servio e qui taglio se no non rispetterei i tempi e rimando al manoscritto se ellenico e con lui Dionigi di Alicarnasso sanno di una cortona di memoria pelasgica Virgilio ne conosce un'altra di memoria etrusca non è il caso qui di esaminare in dettaglio queste tradizioni quanto di rilevare come esse fatalmente fossero destinate a incrociarsi e a sovrapporsi come i pelasgi sbarcati sul litorale di spina pervengono a cortona procedendo verso occidente così dardano sempre da cortona migra verso oriente con tutta probabilità percorrendo a ritroso il medesimo percorso e quindi guadagnando l'adriatico attraverso la via della valle del Savio Enea a sua volta a cortona è poi destinato a tornare risalendo dalla foce del fiume la valle del Tevere poi incontro alla vigna e la storia è stata un'altra la via dei due mari ci ha portato lontano ed è bene tornare ora allo spazio adriatico in età arcaica 5 vero spazio del limite c'è terribile ho conosciuto presidenti molto più permissivi ho fatto male a laureati in età arcaica vero spazio del limite all'adriatico allora che lo navigarono i ubei e i focei e lo frequentarono capillarmente i corinzi che alla sua imboccatura ne fondarono le apoichiai di Apollonia e di Epidanno vorrei dirvi ancora che l'adriatico è sede privilegiata di mirabilia di mirabilia c'è un opuscolo pseudo aristotelico ma combinato con materiali aristotelici ci racconta cose meravigliose c'è Teopompo Teopompo lo storico di Filippo che è interessatissimo all'adriatico che ci racconta del bestiame anche delle donne che non partorivano mai un figlio ma partorivano due o tre di seguito poverette loro e poi abbiamo questa caterva questa congerie di miti certo l'adriatico non ha poleis ed è inutile cercarle e per questo è rimasto in ombra nella storia degli studi io ricordo forse c'era anche Michel ricordo quella grande mostra sui greci in occidente a Venezia dove c'era di tutto mica poi di tutto perché mancavano un po' di cose ma insomma non c'era nessun reperto dell'adriatico una cosa strana perché fatta la Venezia la dovevamo fare ti ricordi a Padula non ricordo più dove roba di della notte dei tempi e l'adriatico ho perso il filo ho perso il filo come sempre succede parlando a braccio e al di là di questi materiali aristotelici della storia degli animali di Aristotele che Aristotele il maestro di coloro che sanno conosce le galline di Adria le galline di Adria che certo non le comprava ad Adria le uova ma le comprava a Stagira o ad Atene cioè c'è questa 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 caterva di mirabilia che si spiega benissimo i marinai che tornavano in patria nelle osterie del Pireo o di Corinto o di Calcide raccontavano cose favolose come i marinai spagnoli che tornavano a Cadice eccetera e sono e sono segmenti che influenzano anche il teatro il teatro greco qui non ho tempo per dirvelo l'avrei voluto dire il teatro greco i tuoi grandi tragici conoscono benissimo l'area adriatica anche se non ha città conoscono Eschilo scrive una trilogia sulle Eliadi conosce Adria un frammento diretto dice Adria Nite Gunaik troppoi ex zigon le donne di Adria che vanno costume di lamenti Sofocle compone una trilogia sugli antenori di Antenor e famiglia e quindi sa benissimo che Antenor è arrivato nella Enetichè che io credo sia la Venezia marittima poi di Plinio ma questo è un altro discorso e Euripide scrive una tragedia che si chiama Fetonte ecco quindi sono questi mirabili adriatici si saldano poi al mito alle leggende e appodano al grande teatro attenese che significa che il pubblico conosceva questi miti e concludo tutte queste connotazioni dell'Adriatico dai risvolti mirabili che non nascono nell'età in cui l'Adriatico si trasforma in un lago tenese o siracusano ma nascono in epoca arcaica quando davvero questo mare adriatico rappresentava uno spazio del limite etichettato nella sua propagine più estrema come paese degli parbori sede cioè di leggendari popoli ai quali l'immaginario attribuiva un insediamento nel quadrante nord-occidentale del mondo conosciuto delle cumene però sconosciuta spazio del limite l'Adriatico che si accentuava per il navigante mano a mano che la propria esplorazione progrediva verso settentrione connotazione di spazio del limite che in altra prospettiva in prospettiva est-ovest si è trasmessa nei secoli quale confine di influenza politica tra Oriente e Occidente l'influenza politica di realtà imperialistiche contrapposte la Roma di Ottaviano e l'Alessandro e di Antonio poi in Italia del regno romano barbarice Costantinopoli quindi Venezia e Levante ottomano infine il blocco del patto di Varsavia e quello dell'Alleanza Atlantica ecco vi ringrazio per l'attenzione chiedo scusa al professor Braccesi per averlo costretto così sembra a concludere ma in realtà si si no ti ringrazio mi ha fatto molto piacere come sempre sentirti chiamiamo a questo punto il professor Gianluca De Sanctis Gianluca De Sanctis è docente di storia romana all'Università della Tuscia io non lo conosco faccio la sua conoscenza oggi per la prima volta mi fa molto piacere ho visto che il suo interesse oltre che di storia romana in quanto tale è specificamente rivolto alla religione ho visto conosco anche in realtà non come mio personalissimo approfondimento ma insomma ho visto un bel lavoro sulla religione a Roma del del 2015 quindi con molto interesse e molta curiosità presento la sua relazione sul Lazio prima di Roma i miti delle origini e il meticciato come paradigma culturale prego grazie allora prima di cominciare credo che stia girando un end out che può dovrebbe accompagnare la lettura e dunque ringrazio gli organizzatori del convegno e in particolare Rachele Dubini che mi ha diciamo voluto per la seconda volta consecutivamente a questi incontri e a cui dunque sono molto grato dunque io partirò da un testo molto noto l'ottavo libro dell'Eneide che aprirà la strada al mio discorso alla vigilia della guerra contro i Rutoli Enea si rega su indicazione del dio tiberino che gli è apparso in sogno da Evandro per stringere un'alleanza militare appunto per la guerra contro i Rutoli Evandro è a capo di una comunità di arcadi come sapete un villaggio chiamato Pallanteo che sorge nel luogo dove alcuni secoli dopo Romolo fonderà Roma Evandro molto ospitale con Enea lo accoglie benevolmente e lo porta a fare una specie di giro turistico per il suo villaggio mostrandogli alcuni di quelli che soltanto in seguito diventeranno dei monumenti di Roma quindi gli mostra la grotta del Lupercale l'Argileto la rupe che sarà chiamata Tarpea il bosco su cui poi Romolo fonderà il suo asilo e poi infine gli mostra tra i resti archeologici di due fortezze che precedono il suo villaggio una che è chiamata Saturnia fondata appunto da Saturno e l'altra chiamata Gianicolo fondata da Giano Saturno lo ha raccontato lo stesso Evandro poco prima ad Enea era giunto nel Lazio esule dopo essere fuggito dall'Oriente perché spodestato come sappiamo dal padre dal padre Giove e aveva raccolto la gente che viveva in quei luoghi una gente che viveva sulle montagne i popoli è stato quasi semiferino sulle montagne dando loro leggi e governandoli placi da pace dice Virgilio del resto sappiamo che secondo che diciamo nella mitologia nella scansione mitologica dei romani il regno di Saturno coincide con l'età dell'oro quindi questo non fa problema Saturno inoltre da buon eroe culturale aveva dato un nome a quel popolo che l'aveva così benevolmente accolto un nome che rappresenta bene ciò che quel popolo aveva rappresentato appunto per Saturno ossia un nascondiglio o sarebbe meglio dire un rifugio Virgilio dice infatti che chiamò quel popolo Lazio perché lì si era nascosto e qui chiaramente Virgilio evoca la famosa etimologia di Lazio dal verbo Latere in realtà anche Evandro lo dice poco dopo lui stesso lo racconta lui stesso ad Enea anche Evandro è un fuggitivo è un fuggiasco lo hanno condotto in Italia la fortuna il fatum i moniti tremendi della madre Carmenta i vatricini di Apollo e nonostante la reticenza di Virgilio che glissa sulle ragioni che lo hanno condotto in Italia Servio parlando di Evandro dice che anche lui era uno fuggito dalla patria Servio conosce delle tradizioni secondo cui Evandro sarebbe dovuto fuggire scappare perché aveva ucciso il padre forse su istigazione della madre o secondo altri racconti la stessa madre insomma abbiamo a che fare qui con un esule appunto Evandro che accoglie un migrante Enea al quale racconta che quella stessa terra prima di lui aveva dato ospitalità ad un altro fuggiasco addirittura ad un dio cioè a Saturno ora se torniamo ancora più indietro nella catena mitografica staccandoci per un attimo dal racconto virgiliano sarebbe stato Giano a dare ospitalità a Saturno e in effetti il dio al quale i romani davano il potere su tutti gli inizi diciamo sembra il più indicato per rappresentare il primo re del Lazio tuttavia anche su Giano circolavano miti diversi meno famosi secondo i quali non sarebbe stato un dio ma un uomo che avrebbe guadagnato lo statuto divino grazie ai propri meriti culturali e anche lui sarebbe stato un fuggiasco anche lui sarebbe stato un greco venuto da lontano addirittura un figlio di Apollo che non accontentandosi dell'eredità paterna sarebbe venuto a cercare fortuna in Italia appunto nel Lazio dove poi fondò il Gianicolo che adesso Evandro mostrava ad Enea dunque chi sono i primi abitanti del Lazio Virgilio dice che sono che sono fauni e ninfe e poi nomina questo popolo nato dal tronco dal duro tronco degli alberi che vivevano dispersi sui monti ignorando l'agricoltura il diritto e la giustizia è naturale pensare anche se se Virgilio non li nomina direttamente che questo popolo sia da identificare questa gens sia da identificare da identificare con il mitico popolo degli aborigeni il popolo indigeno che secondo una tradizione più antica avrebbe accolto i troiani al loro arrivo nel Lazio si sarebbe fuso con loro dando origine alla stirpe dei latini gli antichi credevano infatti che aborigines sappiamo erano così chiamati perché aborigine abitavano quei luoghi il groviglio di tradizioni che circolavano già in antico su questi già in antico su questi mitici abitatori del Lazio è stato studiato con profitto ancora di recente dal professor Brichel che ha mostrato quanto fosse articolato e complesso questo groviglio di testimonianze io mi limito a ricordare che oltre alla etimologia canonica quella di aborigine ne circolavano ne esistevano delle altre ad esempio l'autore dell'origo gentis romane identifica conosce delle tradizioni secondo cui questi aborigeni sarebbero i superstiti del grande diluvio universale gente che si sarebbe rifugiata sulle montagne in greco ore e che sarebbe discesa dalle montagne soltanto quando le acque si fossero ritirate per cui il loro nome sarebbe aborigines perché ab ore oppure un'altra etimologia anche questa naturalmente diciamo linguisticamente inaccettabile secondo cui aborigines in origine sarebbero stati gli aborigines perché avrebbero a lungo a lungo errato quindi il loro nome deriverebbe da ab più il verbo errare quindi sarebbero degli errabondi insomma ora le paratimologie degli antichi sono sempre molto interessanti anche quando sono palesamente false come in questo caso perché al di là del posticcio un esso etimologico di ab più ore o ab più errare ci dicono che o meglio avanzano il sospetto che questi primi abitanti del Lazio fossero anche loro in realtà degli sradicati della gente senza radici della gente che viene da fuori Dionigi in un capitolo famoso del primo libro della sua arcaiologia fa un elenco un elenco molto famoso che adesso non vi sto a ripetere perché immagino lo conosciate tutti diversi gruppi di migranti greci che sarebbero aggiunti nel Lazio quindi parte con gli aborigeni che secondo lui verrebbero dall'Arcadia i Pelasgi e poi gli Arcadi di Evandro e poi gente che si stacca da Eracle mentre torna dall'occidente e l'ultimo contingente sarebbe quello appunto Troiano guidato da Enea ora noi sappiamo bene che lo scopo di Dionigi è quello di mostrare che al di là delle apparenze Roma è una città greca e quindi questo suo inventario risulta molto sospetto ciò nonostante ha il pregio di raccogliere e sistematizzare un groviglio di tradizioni disparate note anche da altre fonti che ci restituiscono ancora una volta l'immagine di una terra particolarmente ospitale il Lazio appunto che è percorsa da emigrazioni che si lascia appunto attraversare e contaminare da presenze diverse e lontane ora si dirà che questi refugi narratives sono dei miti e che dai miti non ci si può aspettare come dire di trovare la verità quantomeno la verità storica ciò nonostante i miti sono lo specchio dei popoli in qualche modo riflettono l'immagine che i popoli hanno costruito di sé il modo in cui hanno deciso di perimetrare la loro identità di definirsi e di definirsi e di relazionarsi con gli altri quindi in qualche modo sono forme dell'autocoscienza collettiva e in quanto tali io credo che siano documenti strumenti preziosi non solo per un'indagine per un'analisi emica di una cultura ma anche documenti preziosi per un'indagine storica del resto se questi racconti sono sopravvissuti al naufragio della più antica mitologia italica qualcuno li ha definiti frammenti preziosi di una galassia smarrita è perché in qualche modo questi racconti hanno continuato ad essere rappresentativi la loro significatività quella che Burkert a proposito del mito chiama Beidoy Samkait non si è uffuscata con il passare del tempo e questo è potuto accadere fondamentalmente perché questi racconti sono rimasti in sintonia con la storia di quei popoli si sono si accordano perfettamente alla prassi politica perché narrano raccontano valori modelli di pensiero e atteggiamenti che incarnano il carattere dei popoli che li hanno adottati allora non è un caso che i romani abbiano messo al centro del proprio mito di fondazione un racconto che riflette perfettamente il carattere composito multietnico di quel mondo che un giorno avrebbero unificato sotto il loro dominio e parlo naturalmente sto alludendo naturalmente al mito dell'asilo che forse non è mai stato attuale come oggi nonostante il nome greco e il luogo dove avere una sua consistenza culturale e una dimensione topografica reale forse legata alla presenza del culto di un dio indigeno le fonti lo raffigurano ce lo descrivono come uno spazio recintato tra due boschi interduos lucos dice Livio che si trovava nell'avvallamento tra le due alture del Campidoglio lì secondo la tradizione Romolo avrebbe aperto appunto un asilo accogliendo tutti quanti vi si fossero rifugiati indipendentemente dal loro statuto giuridico sociale o dalla loro provenienza geografica promettendo a tutti non solo l'asiolia l'immunità ma anche a priori la cittadinanza nella città che di lì a poco avrebbe fondato ora questo mito è l'altro grande mito di fondazione che giace al fondo della storia di Roma ossia il mito della morte di Remo costituiscono i due poli estremi si dice spesso mentre i quali si gioca l'identità romana in realtà questi due racconti nonostante le apparenze non come dire non sono espressioni di una schizofrenia culturale non sono come dire espressioni opposte divergenti di due modi diversi di essere romano ad una analisi più attenta invece si dimostrano legati da una profonda coerenza animati da una logica comune in che senso questi due racconti ci dicono in fondo che per entrare a far parte della città il sangue non conta di fronte alla fondazione della città la consanguinità sparisce la consanguinità che lega i due gemelli in questo caso sparisce si annulla nell'alveo della romanità d'altro canto invece abbiamo questi stranieri che si rifugiano nell'asilo e vengono accolti nella città che ancora deve essere costruita deve essere fondata ma diventeranno a tutti gli effetti dei cittadini per quale ragione perché rinunciano seppure in parte e idealmente alla loro alterità accettando di metterla in circolo accettando di mescolarla con quella degli altri e sto pensando in particolare a quella famosa cerimonia che è descritta da Plutarco che sarebbe avvenuta intorno al mundus no il mundus è questo questo puzzo circolare che Romolo avrebbe scavato al centro della città nei pressi del comizio il passo è molto noto e discusso soprattutto dagli archeologi in cui ciascuno dei coloni è invitato a portare e a gettare una zolla di terra proveniente dal luogo nativo dal paese di origine ora lo scopo di questo rimescolamento di zolle è esattamente quello di fondere le culture di cui ciascun colono è portatore nel tentativo di costruire seppure in maniera simbolica una terra comune in cui tutte le differenze etniche e sociale possono essere in qualche modo riassorbite in qualche modo l'identità romana presenta una natura eccentrica una natura un'identità che si compone attraverso l'apporto di apporti plurimi che vengono da fuori e dico questo perché questo mito di fondazione non può essere non messo a confronto con il mito dell'autoctonia atenese ad esempio il mito dell'autoctonia atenese parla invece di una identità autocentrica gli atenesi andavano fieri del fatto di essere nati dalla terra ne facevano diciamo una questione di la patente di nobiltà di eccellenza per questo Isocrate in una pagina famosa del suo panegirico dice che gli atenesi sono gli unici tra i greci naturalmente esagero un po' ma sono gli unici tra i greci che hanno il diritto di chiamare la loro terra madre patria e nutrice madre non in senso metaforico come fanno tutti insomma i popoli in generale ma in senso biologico perché gli ha dato gli ha dato appunto i natali e a Roma invece l'essere nato dalla terra non è diciamo motivo di vanto tutt'altro esiste in latino un'espressione che è filius terre che però viene utilizzata per indicare quegli individui dalla nascita oscura che non possono indicare i propri antenati non hanno come dire progenitori da poter nominare evidentemente i romani erano poco sensibili al mito dell'autoctonia credevano piuttosto nella virtù del meticciato e questa è una fede che ha accompagnato la storia di Roma dalle origini fino alla tarda antichità e che trova forse il suo migliore enunciato nel famoso discorso pronunciato dall'imperatore Claudio nel 48 dopo Cristo per sostenere la sua proposta di aprire i ranghi del senato ai primores della gallia comata è un testo famosissimo che non ha non ha senso che io qui richiami alla vostra attenzione però preferisco richiamare alla vostra attenzione le parole di un contemporaneo di Tacito o meglio scusate di Claudio cioè Seneca che in quegli stessi anni scrive la consolazione ad Elvia Matrem nel quale nella quale praticamente ricorre agli stessi miti delle origini di cui stiamo parlando per sostenere una tesi che a giudicare da quello che accade sta accadendo oggi in Italia negli ultimi mesi potrebbe essere giudicata sconcertante da molti nostri connazionali che cosa dice Seneca Seneca dice fondamentalmente che l'ibridazione è un dato naturale e imprescindibile nella storia dell'umanità vi leggo questo passo perché mi sembra di un'attualità abbastanza importante è il testo 11 del vostro handout ognuno ha lasciato la sua casa per una ragione o per l'altra questo però è certo che nessuno è rimasto nel luogo dove è nato incessante è il peregrinare dell'uomo in un mondo così grande ogni giorno qualcosa cambia si gettono le fondamenta di nuove città nascono popolazioni con nuovi nomi via via che si estinguono quelle che c'erano prima o si incorporano con altre più forti ma tutti questi spostamenti di popoli che cosa sono se non esili di massa ma perché ti faccio un così lungo giro di parole che giova citarti Antenore fondatore di Pato o Evandro che portò sui lidi del Tevere il regno degli Arcadi o Diomede e gli altri vincitori e vinti che la guerra di Troia disperse per terre straniere appunto in un esule ha il suo fondatore l'impero romano in un profugo che dopo la conquista della sua patria portandosi dietro poche reliquie e spinto dalla necessità e dalla paura del vincitore a cercare terre lontane giunse in Italia insomma tu non troverai una terra che sia ancora oggi abitata dalla popolazione indigena e conclude per mixta ommia et insitiscia sunt tutte le cose sono mescolate e innestate le une sulle altre riassumendo la lezione di Seneca potremmo dire che la purezza etnica non esiste o meglio che è una costruzione identitaria ora questo noi lo sappiamo bene ma lo sapevano bene anche gli antichi perché Livio quando ricorda l'istituzione dell'asilo da parte di Romolo lui non parla di Romolo confessa candidamente che non fu una trovata di Romolo che l'istituzione dell'asilo non era una novità non era un'idea così eccezionale e dice che si trattava piuttosto di un vecchio trucco lui dice vetus concilium un vecchio trucco adottato da quelli che avevano intenzione di fondare una città dice per attirare gente a diecende moltitudini scausa gli ecisti aprivano asili che poi si riempivano naturalmente di avventurieri latitanti fuggitivi la cui identità e il cui passato però poi venivano opportunamente occultate occultate in che modo facendo credere loro dice Livio che in realtà erano nati dalla terra dice il testo nata metere sibi prolem emensie bantur in sostanza Livio ci sta dicendo che il modo in cui fu popolata Roma non aveva nulla di eccezionale tutt'altro solo che a differenza dei romani gli abitanti delle altre città latine vicine a Roma avevano preferito disconoscere o occultare le loro origini meticce dietro il mito dell'autoctonia che come insegnavano i greci costituiva una patente di nobiltà e di eccellenza di comprovato successo ecco perché quando Romolo manda i suoi ambasciatori presso le città vicine a chiedere di miscere sanguinem con i romani riceve un netto rifiuto molto spesso i suoi ambasciatori vengono liquidati bruscamente e qualcuno chiede loro in modo sarcastico ovviamente perché mai i romani non abbiano aperto un asilo anche per le donne visto che quelle sì sarebbero state mogli adatte per i romani è evidente che queste città avevano scelto di costruire la propria identità attraverso l'artificio della purezza etnica così come aveva fatto Alba Alba Longa la madre patria di Roma Dionigi delle Garnasso dice che racconta che prima che il duello fra Orazzi e Curiazzi decidesse quale delle due città avrebbe avuto la supremazia sull'altra i due leader delle città Mezio Fufezio e Tullo Stilio si confrontarono a una specie di agone dialettico in cui ciascuno cercava di rivendicare le ragioni della supremazia se leggete il testo di Dionigi dell'Icarnasso il testo 12 Dionigi Mezio Fufezio dice praticamente le stesse cose che avrebbero detto gli atenesi di fronte a proposte di questo tipo la stirpe degli albani continua ad essere nella nostra epoca tale quale era al tempo dei fondatori delle città e nessuno potrebbe mostrare ad eccezione dei greci e dei latini qualche popolo cui noi abbiamo concesso la cittadinanza quindi la cittadinanza non va concessa voi al contrario voi romani avete distrutto l'integrità dell'ordinamento statale vigente presso di voi dando accoglienza a Tirreni a Sabini e ad altri privi di sede fissa e vagabondi barbari in gran numero a tal punto che i vostri discendenti puri originari della nostra stirpe sono ormai in numero esiguo un gruppo piuttosto piccolo rispetto agli immigrati e agli uomini di altre razze se noi rinunciassimo al potere in vostro favore il bastardo comanderebbe sul legittimo il barbaro sul greco e l'immigrato sull'indigeno dobbiamo concludere che il tema della purezza etnica dove avere un certo appilla anche tra gli italici dunque in fatto di miti di fondazione i romani andarono controcorrente rispetto ai loro cugini albani e latini rivendicando con forza la loro origine meticcia e arrivando al punto di farne il perno ideologico della loro idea di conquista potremmo sintetizzare questo discorso dicendo che se Atenesio albani si nasce romani si diventa ma la presenza di un asilo non era l'unico la presenza dell'asilo come nucleo demografico originario della città non era l'unico tratto che Roma poteva aveva in comune con le altre città del Lazio per restare al mito di fondazione c'è da ricordare che Varrone in un passo famoso del lingua latina 543 dice che il sulcus primigenius cioè quel rito col quale fu fondata Roma in realtà era praticato da molti altri popoli nel Lazio parla appunto dice oppida con debbante il Lazio etrusco rito molti e poi descrive il rito Catone che conosce che insomma da cui deriviamo più o meno la stessa notizia citato da Servio dice addirittura che si trattava di un mos cioè di un di un costume è successo quello che non è successo si sente adesso no ora si ok allora da queste indicazioni da molte altre taglio per non tediarvi troppo ok Roma sorge in mezzo ad una miriade di città gemelle fondate allo stesso modo seguendo le stesse prescrizioni rituali il popolamento di questi centri se diamo credito a Livio doveva essere realizzato attraverso una politica fortemente inclusiva che incoraggiava immigrazioni e mescolamenti io credo che in tutto questo abbiano giocato un ruolo importante anche i culti religiosi i culti gli dei migravano insieme con i popoli seguivano le migrazioni dei popoli nel vostro handout c'è un passo molto bello credo di poter aver il tempo di discutere di Varrone in cui lui dice che le divinità importate a Roma da Tito Tazio dopo la pace con i romani installate sul Campidoglio sono divinità che stanno in mezzo a queste due culture e usano una bella espressione sulla quale richiamo la vostra attenzione dice che questi teonimi dopo averli elencati tutti dice sono ut arboresque in confine o nate in utroque agro serpunt cioè sono come alberi che nati al confine tra due campi diramano le loro da entrambe le parti e in quanto tale sono di entrambi non sono né romani né sabini stanno nel mezzo cioè voglio dire che dal punto di vista almeno per quanto riguarda l'ambito religioso la contiguità tra il campo sabino e quello romano è tale da mettere in discussione la stessa nozione di confine e viene da chiedersi a questo punto come si concilia tutta questa apertura con questa osmosi con l'ossessione che gli antichi popoli italici avevano per i confini allora qui bisogna ricordare che i confini sono di molti tipi esistono confini duri rigidi dotati di una consistenza fisica e in quanto tale molto vincolanti come può essere una montagna un fiume ma parliamo di confini naturali oppure un muro di cinta che è un confine inventato dall'uomo ma poi c'è un altro genere di confini confini molto più elastici quasi immateriali virtuali e per loro natura porosi questi sono i confini che distinguono i territori di una popolazione da quelli di un'altra sono quei confini che i romani vabbè il termine è fines ma sono confini che sono presenti sul territorio attraverso il posizionamento di alcune marche di confine alcuni segni di confine attraverso cui passa la linea queste marche di confine questi segni di confine in latino sapete si chiamano termini ora la cosa importante è che questi confini appunto i fines non sono confini costruiti eretti per impedire il passaggio da un luogo ad un altro sono confini che servono a indicare una discontinuità spaziale che pretende riconoscimento di una serie di attenzioni da parte di chi la attraversa in particolare da certe categorie di persone se prendiamo la divisione augurale degli agri che troviamo in Varrone è un altro testo del vostro end out beh lì la divisione riguarda soprattutto è importante soprattutto per gli auguri perché gli auguri quando passano gli auguri magistrati sacerdoti di Roma quando passano da un territorio all'altro devono sottoporsi a un rito di cui non conosciamo diciamo i dettagli che serve fondamentalmente a mantenere vivo l'auspicium di partenza quindi sono confini che servono per alcune categorie di persone l'anno scorso il convegno organizzato da Rachele qui in questi qualche giorno prima rispetto a quelli di oggi di giugno si è parlato molto a lungo dei confini del confine tra Quinto e Sesto Miglio dei santuari di confine che secondo una parte della tradizione degli studi avrebbero puntellato i limiti dell'Age Romano Santicus abbiamo parlato qualcuno ha parlato anche ha ricordato i rituali che venivano compiuti lungo questi confini si è parlato a lungo del Pomerium quello che è importante tenere presente è che questi rituali che venivano celebrati lungo questi perimetri l'Amburbium o i Discussian Barvalia sono rituali che hanno lo scopo di rinsaldare la difesa di questi confini ma è una difesa fondamentalmente di tipo religioso come quella evocata da Catone in un capitolo famoso del De Agricoltura per suo campo il confine dunque non dobbiamo dimenticarlo è un dispositivo che presuppone sempre due referenti chi sta al di qua e chi sta al di là del confine i cipi terminali lungo i quali passavano questi fines sono strutture bifronti che funzionano almeno così dovrebbe essere per entrambe le parti e in quanto tali si configurano come spazi comuni quando il Pater Patratus nell'ultimo testo del vostro handout si recava presso il popolo dal quale Roma pretendeva una rivendicazione pretendeva delle cose in cambio della guerra una volta arrivato di fronte ai confini di quel territorio citava una formula che lì io riporta in dettaglio che comincia Audi Jupiter Audite Fines è una formula molto famosa perché la richiamo la vostra attenzione perché nonostante le apparenze quello messo in scena dal sacerdote del popolo romano non è propriamente un rito di passaggio lo scopo in effetti non è scongiurare disinnescare attraverso una procedura rituale la pericolosità insita nell'attraversamento di una soglia quanto piuttosto attirare su di sé e sui propri partner sociali il popolo dal quale lui si sta recando l'attenzione di alcune entità sovrumane ritenute garanti del diritto la personificazione dei confini in altre parole la preghiera che viene loro rivolta testimonia il modo in cui i romani concepivano questo genere di strutture cioè non come delle barriere invalicabili oltre le quali non si può andare ma come dei barchi bilaterali che se da un lato segmentano lo spazio antropico distinguendo diritti e poteri dall'altro tutelano il passaggio e suggeriscono una reciprocità e mi avvio a concludere il fatto è che i popoli antichi non hanno pensato o quasi mai pensato immaginato di militarizzare i confini tantomeno hanno pensato di chiudere i confini come si dice oggi spesso il loro problema non era appunto chiudere i confini impedire i passaggi da un territorio ad un altro quanto piuttosto salvaguardare l'esistenza del confine e soprattutto le funzioni che il confine mantiene ha per sua natura come hanno fatto come facevano a fare tutto questo come facevano a salvaguardare il confine che ovviamente ha una natura culturale cioè non esiste in natura è una cosa inventata dagli uomini attraverso due processi praticamente identici che si prefigono lo stesso scopo due strade alternative ma che sostanzialmente militano della stessa parte la sacralizzazione o la divinizzazione la sacralizzazione o addirittura la divinizzazione dei confini rispondono appunto a questo scopo occultare l'arbitrarietà del confine perché arbitrarietà significa automaticamente vulnerabilità stabilizzare il confine neutralizzarlo perché questo possa perdurare nel tempo e continuare a svolgere le sue funzioni che sono di ordine semiotico politico giuridico e religioso ma certo non per impedire il transito o la comunicazione tra gli uomini grazie grazie molte grazie e a questo punto chiamo il professor Dominic Brichel non ha bisogno di presentazioni il suo nome evoca etne portanti nell'identità o nelle molte identità della penisola italica celti etruschi lì di tirreni per asgi quindi non ha bisogno di ulteriori descrizioni l'apporto che ha dato alla nostra disciplina quindi con molto piacere gli cedo la parola il professor Brichel non metto alla prova la pronuncia del mio francese per cui traduco in italiano ci parlerà degli autori antichi chiedendosi se hanno pensato alla mescolanza etnica e all'ibrillazione culturale con l'esame di alcuni testi prego grazie sì allora dunque non farò non leggerò un testo così ma invece inviterò una riflessione su tutto un corpus testuale che avete nell'andaut che ho distribuito dunque l'ho preparato in francese come siamo si può dire un confine tra l'italia e la francese e la francese dunque il mio discorso sarà più un commento dei testi che avete come si tratta di testi abbastanza lunghi io non leggerò tutto in dettaglio ma potete leggerli facilmente sì allora mi sono concentrato sui testi nella letteratura antico che parlavano della questione della mescolanza dei popoli nella zona padana e per vedere se veramente c'era un concetto di tipo ibridazione o anche se semplicemente mescolanza ma in realtà come lo vedremo forse non c'era il modo di pensare anche se l'aveva anche io accennerò alla questione dei migades che era una cosa piuttosto negativa dunque spesso e perciò il caso di Roma molto interessante come anche Claudio Moati l'aveva al centro della sua riflessione i romani erano del tutto isolati e si spiega naturalmente dalla storia romana ma io parla piuttosto di questa zona dunque io partiro come l'omessone all'inizio dalle donne archiologiche e on sait bien aujourd'hui qu'il y a eu des mélanges de population e je me suis permis simplement de prendre ce qui est dit sur internet du site de mondepi baile que beaucoup d'entre nous connaissent très bien avec une présentation un peu journalistique qui présente montabibélé comme la montagna devait convicero et trusquiez tchelti comme si c'était quelque chose d'exceptionnel et quelque chose de remarquable et en réalité tous ceux qui ont une pratique de l'archéologie savent que ça n'a rien d'exceptionnel et déjà au moment où les fouilles ont commencé à être connues à être publiées en particulier moi qui m'intéresse aux inscriptions il y avait ces fameuses inscriptions et en particulier avec ce nom étrusque qu'on trouve en deux exemplaires le nom Peteney le nom Peteney qui dans un contexte archéologique de type gaulois est lié à des éléments de la couche supérieure de la population ça veut dire qu'il y avait une alliance matrimoniale entre des éléments celtiques qui avaient une position de premier plan et qui avaient eu des mariages avec un élément étrusque et j'ai cité la phrase que Giuseppe Sassatelli avait dite à ce sujet là la répétition et d'un stesso gentiliz au Peteney la chaîne traverserait la presenza non marginale all'interno de la comunità d'un stesso et bien sûr une famille bien connue dans le monde étrusque on a des Petenas souvent plutôt avec un état en particulier à Giuse où le gentilice est extrêmement représenté alors si on regarde maintenant dans les textes quelle vision avons-nous du passé de la région il faut bien dire que ça n'est pas du tout ça on a l'impression qu'on a des blocs ethniques qu'à un moment il y a une population unitaire de tel type et qu'après il y a un changement remontons au stade le plus ancien celui où il y avait les étrusques vous connaissez bien les traditions sur la ligue des douces étrusques la Dodecapole qui aura existé non seulement en Italie centrale mais aussi en Campagne et le Chacharca le sait bien alors d'une manière tout à fait artificielle quand on raconte que Capoue était la Capoute était la tête de Dodecapole et qu'on raccroche la notion de Dodecapole à ça c'est complètement absurde mais n'empêche qu'il y avait ce mode de représentation alors ça valait bien sûr pour l'étruerie proprement dite pour la Toscane mais aussi pour les deux provinces extérieures quelle que soit leur histoire et celle du nord celle de la région Badane qui nous intéresse ici je vous donne quelques références alors après qu'est-ce qui se passe il faut bien dire que vous avez la mise en oeuvre d'un processus explicatif qui est celui de substitution alors les étrusques qu'est-ce qu'ils sont devenus alors bien sûr on va chercher un peu des traces et j'expédie d'abord si je peux dire le cas des Rètes de Raïti avec l'idée qu'il y aurait une partie des étrusques qui aurait été chassée vers le nord et toute cette tradition je vous donne les références je ne les analyse pas comme quoi cela aurait été des descendants des étrusques installés dans la plaine du Pau qui auraient été chassés par les riviers des Gouloins qui seraient partis vers le nord alors avec des côtés disons de tradition tout à fait artificielle on va bien sûr chercher un héros éponyme qui les aura appelés comme ça puis il y a quand même une réalité parce qu'ils avaient bien le sentiment d'un apparentement linguistique mais avec le côté amusant je cite en latin necui d'exanticuo preter sonum le lingue nec in poruptum retinerunt donc on a l'impression que c'est de l'étrusque mais en même temps on dit c'est pas du bon étrusque mais il y a l'incapacité de sortir de ce schéma là et maintenant nous savons bien pour l'archéologie que la présence de la population qu'on peut définir comme raite à époque tardive en réalité remonte beaucoup plus haut dans le temps quant à la langue qui renvoie à l'excellente étude de Helmut Rix qui date déjà d'un certain temps qui montre que c'est de l'étrusque mais c'est plutôt ce qu'on appelle un langage estruscoïde avec des traits quand même particuliers donc là c'est une révection à posteriori on part de l'idée que les étrusques ils sont plus pleines du pot ils sont du parti ailleurs donc on va raccrocher les rêtes à cette tradition mais pour la région Padane ce que nous répètent successivement les auteurs c'est toujours la même idée qu'il y a une arrivée des gaulois en tant que français je dirais nos ancêtres les gaulois qui arrivent et qui chassent les étrusques alors je vous donne les textes principaux que vous connaissez Polybe Diodore Justin et avec le cas particulier de la tradition sur Ménpoum devenu vivant et c'est toujours la même doctrine qu'il y a l'arrivée des gaulois et qu'il y a une substitution les étrusques sont chassés autrement dit il n'en reste plus aucun et les gaulois s'installent à leur place alors je n'analyse pas en détail ces traditions je rappelle simplement qu'il est intéressant de voir que le texte le plus ancien Polybe je commenterai juste un peu l'expression les gaulois qui se trouvaient établis au voisinage des étrusques avec lesquels ils avaient de fréquents en rapport et on ne dit même pas qu'ils étaient déjà dans la même région remplis de convoitises à la vue de ces terres plantureuses saisir un prétexte futile pour pénétrer brusquement avec une vaste armée dans la plaine du pot en expulser les étrusques et s'installer d'eux-mêmes à leur place on voit bien qu'il connaît la tradition que vous connaissez bien sur Havons de Kiusy et qui va aboutir à terme à la prise de Rome par les gaulois mais avec sa méfiance à l'égard des traditions légendaires et de Timétis bien sûr il ne veut pas en parler donc on a affaire à quoi ? on a affaire à l'application de ce que j'appellerais un schéma invasioniste classique où au fond on aurait l'idée de succession de population et de succession totale et j'envoie à ce que il y a déjà assez longtemps mon maître Jacques Orgon avait écrit dans son excellent manuel sur Rome et la Méditerranée occidentale ce qu'il avait intitulé l'anti-inversionisme et ses limites mais il marquait bien quand même que disons même si quelquefois on était trop loin c'était une vision fondamentalement fausse alors bien sûr qu'est-ce qu'il y a derrière s'agissant des gaulois bon il y a l'application de l'image classique du gaulois guerrier alors bien sûr qui s'était revendu dans le milieu grec et vous connaissez le succès littéraire artistique du thème du sac de Delphes ou à Rome la tradition sur le tumultus gallicus et bien sûr les souvenirs de 390 avant l'écrit donc ils sont une image récurrente et une sorte de topos qu'on appliquait aux gaulois alors autre type de topos qui montre le caractère artificiel de ces traditions vous avez l'application de schémas alors beaucoup plus répandus parce que vous les avez souvent dans les histoires de colonisation l'idée qu'il y ait un trouble intérieur une stasis pour prendre le terme grec au départ par exemple je lis ce que vous avez dans Justin des dissensions intestines des guerres civiles perpétuelles or pour les récits d'envoi de colonisation vous savez que c'est quelque chose de tout à fait de tout à fait fréquent alors de même quelque chose à laquelle nous sommes habitués avec les auteurs anciens des synchronismes assez assez artificiels bon chez Diodore de Sicile dans le même temps que Denis poussait le plus vigoureusement le siège de Regium donc il se passe quelque chose dans le sud il y aura quelque chose dans le nord exactement au même moment et on arrive à si j'ose dire au synchronisme le plus ridicule celui qu'on a pour la prise de Melpoum telle qu'elle était racontée chez Cornelius Nepos Melpoum une ville particulièrement riche qui d'après Cornelius Nepos fut détruite par les insubres les boyens les sénons le jour même où Camille priait privaille donc les étrusques perdent leur grande cité vers le sud le même jour exactement du fait des gaulois ils perdent la ville de Melpoum dans le nord donc quelque chose de tout à fait artificiel alors quant au motif de départ là aussi je n'en reviendrai pas sur l'attirance des gens du nord pour les productions méditerranéennes je reviendrai inversement parce que ça a une autre importance sur l'histoire du forgeron Helvète mais Helicon mais je le réserve plutôt vers la vers la fin donc vous avez l'application au fond de schémas dont nous savons bien qu'ils ne peuvent pas correspondre à la réalité mais qui était au fond la mise en oeuvre de modes de pensée courants dans l'antiquité alors bien sûr ça ne marchait pas totalement et ils en avaient conscience et je vais me focaliser sur un cas particulier qui pour le coup a été conçu comme une exception et nous permettra d'avancer dans la réflexion dans notre région qui est le cas bien sûr de Mantoux puisque Mantoux on faisait une exception mais justement elle avait le statut d'exception et je rappelle la phrase de Pline Mantua Transpadum Sola Reliqua comme si Mantoux avait été le seul endroit où étaient restés des étrusques dans la région alors bien sûr ça a développé toute une tradition et Mantoux devenant même projeté dans le passé Prínqueps et Trourier est la tête de ces deux décapoles padanes alors que historiquement nous savons bien que c'était Felsina tradition vivante et depuis longtemps on a fait remarquer que le cognomène de Virgile Marot c'était un type de magistrature étrusque donc ça voulait dire que disons il y avait la fierté dans sa famille de quelques manières qu'on l'explique sans doute d'avoir donné des magistrats à cette cité alors comment ça fonctionnait ça fonctionnait on a fait allusion à des histoires de fondation et bien sûr on voit mis en œuvre ce type de schéma à propos de de Mantoux et justement on va chercher des fondateurs généralement qui sont des étrusques alors il y en a de plusieurs types déjà on va chercher Tarkon Tarkon bien sûr qui est lié à Tarkunia mais qui en même temps que fondateur de Tarkunia est considéré comme fondateur de l'ensemble du nomène étrusque-loum et je rappellerai ces traditions bien sûr on va chercher la vieille histoire de Tyrannos l'histoire héritée d'Hérodote mais celui qui joue un rôle actif ce n'est plus Tyrannos mais c'est Tarkon considéré dans certains cas comme son frère dans d'autres cas comme son fils et c'est Tarkon qui joue un rôle central bien sûr à partir de Tarkunia mais des gens comme Verius Flacus et Cessina vont appliquer cette même histoire à l'étrurie padane et donc font intervenir le même personnage de Tarkon alors bien sûr ce sont des auteurs intéressants Cessina par ses origines étrusques que Cicéron avait avait souligné vu les rapports qu'il avait avec lui sans doute à travers son père et Verius Flacus auteur de Rès et Trousquet mais il y avait d'autres traditions alors un peu plus complexe mais qui nous intéressent aussi là encore pour montrer comment on justifia en quelque sorte cette exception et comment on avait bâti des traditions assez artificielles bon l'histoire d'Ocnus d'abord puisque Ocnus c'est dans l'énéide le le fondateur de de Mantoux et s'est développé par ses par ses commentateurs Servius et son et le doteur Servius je vais rappeler son interpolateur mais ça revient ça revient au même alors en lui donnant une une ascendance dont on voit bien que c'est déjà un peu complexe parce qu'il est le le Ocnus est fils de Mantoux cette héroïne féminine mais aussi du fleuve Tuskous c'est à dire du Tibre donc on voit que ça renvoie à une autre région et vous savez bien ce qu'il y a derrière qui est que Ocnus était lié à la fondation de de Pérouge je reviendrai un peu un peu là-dessus mais je rappelle que là aussi c'est intéressant on voit qu'il y avait une tradition différente donnant le nom de Biennord et c'est celui qu'on a dans dans les Bucoliques le commentaire de Servius est bien embêté parce qu'il est obligé de dire que Biennord c'est Ocnus comme si c'était exactement la même chose en réalité c'était bien sûr une tradition différente et purement purement grecque alors là il y a une tradition malheureusement que nous connaissons assez mal Ocnus ayant été d'abord pour la région padane liée à Felsina Bologne puis ensuite récupérer ce qui est normal par Montou puisqu'elle était transpadum cela etruscorum reliqua mais en réalité ça concernait bien sûr Felsina avec une légende de lutte entre deux frères Alain Meuron qui s'intéresse aux légendes de frères et de jumeaux l'a bien étudié son frère Oulestès était le fondateur de Pérouse et il y a une réalité il est obligé de partir donc application à Montou de tradition qui concerne la Toscane mais pour autant il y a quand même une certaine constance justement de cette diversité ethnique je ne dis pas nécessairement du mélange et on verra les nuances puisque nous le savons bien qu'à Montou bien sûr il n'y avait pas il ne pouvait pas y avoir seulement des êtres russes alors je m'appuierai d'abord sur une trouvaille archéologique épigraphique tout à fait remarquable que vous connaissez bien cette fameuse inscription étrusque avec le nom Elou-Waïtier la découverte est proprement à Montou d'une inscription qui mentionne un 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 puisque j'ai déjà un peu fait allusion à la traduction sur Élicon le forgeron qui était qui était parti à Rome or là on a la preuve effectivement qu'il y a pu avoir des Helvettes qui sont passées au sud des Alpes et qui se sont installées sur le sol de l'Ide bon je regardais bien sûr sur la sur ce cas alors conscience qu'avaient quand même les anciens moi évidemment il ne connaissait pas le fameux El-Waïtier il n'est pas question d'Helvette mais vous avez la mention de peuples différents et relativement nombreux à propos de de Mantoux et indépendamment de la citation de de Virgile de Lénide qui parle de peuple au pluriel de Guentes au pluriel mais sans sans les nommer puis il dit simplement c'est non gomne genus omnibus gungnum genci litrepex triplex populis sub guente quaternique mais il ne donne aucun nom alors ces commentateurs évidemment vont essayer d'expliciter ça et vont nous donner des noms ethniques alors certains sont totalement artificiels je commence par ceux qui sont à la fin de de la notice quand il est question des des vénètes et des gaulois de la gaule cisalpine et c'est Servius lui-même qui le le disait bon les vénètes si j'ose dire ça n'a aucune valeur puisque ça vient simplement du fait que à l'époque on était dans la région et c'est ce qu'il dit dans la région appelée vénètes et bien sûr ceux que nous appelons les vénètes n'étaient pas dans cette région là au contraire vous savez bien qu'il y avait une distinction entre les vénètes et les gaulois donc la gaule cisalpine avec la fameuse affirmation de sur les sur les vénètes par rapport aux gaulois de Tite-Live 5 3310 qui transpadum omni aloca excepto venetorum angulo ou soit d'alpeste était nouérée donc les gaulois ont occupé toute la région sauf l'angulum des vénètes alors bien sûr à l'époque tardive il peut y avoir des confusions disons à titre d'illustration j'ai cité ce passage de Jean Lillien où pour expliquer les wénétis du cirque on dit les wénétis c'était des vénètes parce qu'ils avaient des habits de couleur bleue et c'était des gaulois évidemment ça ne vaut rien de même le fait que ils soient dit gaulois à cause de la présence dans la gaulle cisalpine là encore ça c'est quelque chose qui n'a pas une grande valeur alors reprenons ce que dit l'interpolateur de Servius l'auditeur de Servius qui est plus intéressant parce que lui va citer plus précisément un groupe une série de peuples les étrusques les thébins les gaulois ou sarcinettes je reviendrai là-dessus vous avez quatre noms ethniques mais un étant posé en alternative donc on arrive à une triplicité les thébins il n'y a pas un grand chose à dire bien sûr c'est la tradition si je peux dire originelle sur Mantus Mantus fille du Mantau fille de Thérésias avec une sorte d'étymologie à propos de Mantis et bien sûr on était bien content de trouver un nom d'héroïne grecque qui ressemblait au nom de Mantou je rappellerai simplement que la légende de Mantau était relativement vivante en Grèce donc ce n'est pas une création artificielle à propos de Mantou je vous donne un certain nombre de références alors tradition peut-être plus intéressante pour nous quand il est question des sarcinates les sarcinates sarcinats c'est une ville lombrée pourquoi avoir choisi sarcinats il faut bien dire qu'on ne sait pas tellement mais bien sûr qu'il soit question des ombriens pour la région là ça rejoint un certain nombre d'éléments je cite ce que dit Pline pour Boutrium près de Raven necproculamari umbrorum Boutrium et surtout vous avez le long passage que je ne lis pas de Strabon sur l'idée de deux colonisations parallèles dans la région Padane à partir des régions du sud les étrusques d'un côté et les ombriens de l'autre qui non seulement se chamaillaient de par et d'au-dessus du Tibre au sud des Apennins mais du coup auraient voulu tous les deux s'étendre vers le nord avec une sorte de rivalité je commande par le passage le thème classique de la truffée des étrusques où les étrusques se laissent évidemment aller à la bonne chair une vie facile et les ombriens leur sont supérieurs mais au moins ça insiste sur la présence d'éléments ombriens qui est cité parfois par Pastrabo aussi puis je crois à l'article classique de Colonna qui avait bien mis en valeur les traces archéologiques de la chose alors le cas de Sarcina est plus complexe c'est ça là aussi c'est des choses qui sont un peu un peu claires puisque ça renvoie justement quelque chose à laquelle nous avons fait allusion pour l'histoire d'Ocnus un Sarcina Tibus qui pourrait pérousier qu'on dit des routes alors qu'est-ce que ça veut dire je ne vais pas me lancer dans la question je rappelle aussi un autre trait pour l'étrurie dans la tradition de disons élément de contact avec les ombriens l'ancien nom de Kuzi qui aurait été Kamars Kuzium Kod Kamars Olima Pelavand qui est une expression de Titliv et qui bien sûr renvoie au Kamertes Ombri aux ombriens de Kamerico donc une certaine conscience de la présence d'autres d'autres éléments mais qui ne sont pas mis sur le même plan et bien sûr je renvoie toujours à la notion que ça a été Transpadum cela et Truscorum et Lica c'est des étrus qui sont le plus important ce qu'on a chez Lirgile Tusko Desanguine Ouires ou ce qu'on a chez Servius à propos des étrus qui imantois Regnabat alors qu'est-ce que ça veut dire en réalité il y a derrière ça sans doute une incompréhension ou peut-être une difficulté de comprendre le texte parce que est-ce que ça fait allusion à des peuples extérieurs et à l'organisation de toute la région sans doute pas puisqu'il s'agit sans doute de non pas disons de la population générale et de la Dodeca de Paul Padane mais de l'organisation interne de la cité alors bien sûr les termes employés par Virgile Guénus Guéns Popoulous ne sont pas très clairs mais on voit très bien qu'il y a l'idée d'une organisation d'une organisation sur une base 12 mais non pas 12 mis sur le même plan mais 3 x 4 donc une organisation ternaire et chacun des tiers est en lui-même divisé en 4 alors qu'est-ce que c'est ? c'est une organisation interne de la cité le terme Popouli ici peut être pris d'une manière plus générale mais s'applique aussi à chacun de ces éléments au point que le même terme sera rendu dans le sera rendu dans par l'interpolateur de Servius comme l'équivalent du Curie autrement dit il faut sans doute penser que vous avez derrière ça l'idée d'une organisation interne de la cité c'est intéressant parce que c'est le seul cas de cité étrus sur lequel on aurait une idée non pas une référence à la deux décapoles de l'ensemble du domaine et des troupes mais à l'organisation interne de la cité autrement dit on a une dualité un peu du même genre de ce qu'on peut penser pour le lacium où vous aviez les triginta Popouli Latidi mais à l'intérieur prenons le cadre là encore c'est le seul qu'on connaît bien les 30 Curie divisées en 3 en 3 tribus donc sans doute quelque chose je me permets de renvoyer un article que j'avais fait sur la question malheureusement qui est rédigée en allemand donc il y a dû y avoir en réalité une confusion entre le niveau local et le niveau général le niveau de la ville et le niveau de la de la fédération au moins dans cette région et qu'on voit bien je reviens là-dessus dans l'utilisation dans le texte que je vous donne après de l'interpolateur de Servius 10-202 où on retrouve les termes romains tribus courriens mais je vous rappelle que l'utilisation est courante à l'époque romaine à propos des rituales libri quand Festus nous parle de leur contenu il dit qu'ils expliquaient comment étaient organisées les tribus comment étaient organisées les curies donc on applique les termes les termes romains alors je reviens sur un autre trait qui est que comme je l'avais souligné il y a quatre noms ethniques puisque pour le quatrième on hésite entre les gaulois et les et les sarsinats autrement dit on voit très bien que il y en aurait quatre mais que on a besoin simplement d'une triplicie de composantes autrement dit c'est l'organisation interne qui est celle de trois tribus alors bien sûr c'est pensé en termes de succession ethnique mais en réalité ça rend compte d'autre chose qui est l'organisation interne de la cité donc on pourrait penser qu'il y avait l'idée d'une triplicité interne mais alors faut-il aller dans le même sens que le texte ancien et lui donner un sens ethnique on a assez parlé de Rome vous avez bien qu'à Rome ça a été la tendance mais ça ne marche pas alors je me permets de renvoyer à tous les textes que vous connaissez bien sur les trois tribus romaines les Ramnenses les Titianses et les Lucarès bon les Ramnenses et les Titianses ça marche très bien c'est la légende de Romulus et Titus Tassius donc vraiment une donnée fondamentale de la légende ça ça n'a pas été mis en cause mais dès qu'il s'agit des Lucarès les anciens étaient bien embêtés et on ne savait pas très bien quoi en faire souvent on ne les explique pas vraiment ou alors quand on va les expliquer c'est sur un autre plan le Titlif dit qu'il ne sait pas mais inversement Varon donne une explication en disant que c'est des étrusques c'est une explication qu'on retrouve couramment mais il le réfère à quelqu'un d'autre qui n'est pas quelqu'un de très connu autrement dit c'est pas sur le même plan que l'identification des deux autres et il y a d'autres explications qu'il ne faut pas oublier on va chercher Loukérous en roi dardé on a parlé dardé ce matin avec les rutules les rouges des traditions militaires assez assez importantes mais il ne s'agit plus du tout des étrusques autre type d'explication on va chercher le Loukous le Loukous du du lieu d'asile dont on a on a parlé tout à l'heure donc ce qui veut dire que bien sûr il y avait l'idée simple que dès qu'il y avait une division elle s'expliquait en termes ethniques mais qu'en réalité bon ça ne marchait pas il fallait chercher autre chose et on arrive à l'idée que s'il y a une variété ethnique et c'est ce qui vient d'être présenté dans l'exposé précédent ça n'est pas des gros blocs de population mais c'est simplement le résultat de la constitution de la cité qui s'est fait d'apports divers alors on sait bien qu'à Rome il y a un certain nombre de cas qui étaient tout à fait ennemis comme ça bon bien sûr et oui on a rappelé la fameuse table au guienne de Lyon où on met en avant un destin comme le destin de 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 Servius Julius bon qui ou celui de Tarquin l'Ancien qui est le cubon qui arrive de Tarquinia est bien bien accueilli un grand destin etc je rappellerai aussi la tradition sur la Samba à Taclausus devenu Apius Apius Julius d'une manière plus générale oui il y a le cas très intéressant des affranchis des affranchis qui au moins au niveau de la génération suivante étaient parfaitement intégrés comme les autres et je rappellerai que déjà au temps de Philippe V de Macédoine il y avait la fameuse inscription de Larissa de 214 avant Jésus-Christ où Philippe V montrait aux Grecs regardez si les Romains ont des troupes nombreuses et que vous souffrez de l'oligantropie c'est peut-être justement lié à des capacités de 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 cet endroit-là donc quelque chose qui est tout à fait présent et accepté dans le cadre de Rome mais sur un plan général comment est-ce que les choses pouvaient être senties c'est justement là où on se heurte au fait que c'était pas très bien vu on a fait allusion tout à l'heure à la tradition sur les Migadès les Migadès qui sont justement ce type d'origine mêlée par opposition aux autochtones et à l'émigration organisée à partir d'un peuple mais les Migadès c'est considéré comme la pierre des origines et c'est oui j'arrive à j'arrive à la fin donc les Migadès je ne les défends pas bon ils sont ils sont très mal vus justement le la tradition sur l'asidoum a été utilisée par les grecs et de Rome je vous envoie je vais traiter la question je ne suis pas le seul c'était quelque chose de tout à fait négatif donc il était difficile d'admettre cette idée-là et surtout il s'agissait de savoir quels étaient ces éléments étrangers bien sûr toutes les populations n'étaient pas n'étaient pas égales les grecs c'était très bien vu je n'insiste pas là-dessus les êtres c'était un peu plus compliqué parce qu'on on acceptait dans certains cas des innovations étrusques et l'arrivée de populations ou des innovations même culturelles les loups d'Iscéniqui ou les jeux du ciel je vous donne quelques références mais Dominique Comosti a bien montré tout le débat qu'il y a eu donc c'était dans leur cas pas très bien vu et Titlivre avait du mal à même simplement à comprendre qu'au 4ème siècle les romains allaient se former au littérés au littérés étrusqués pas au littérés grecqués mais alors quand il s'agit de ces d'autres quand il s'agit des barbares bon je vous cite moi aussi un texte de Denis d'Alicarnasse qui insiste sur tous ces barbares qui seraient venus à Rome en disant ah au moins les romains étaient capables de rester des grecs malgré tout ça bien sûr ils n'étaient même plus et je reviens je conclurai là-dessus sur ces traditions de l'icône et l'icône au fond Thierry Lejar en parlera à propos de la fameuse épée de type gauloise fabriquée à Rome les romains étaient dans l'incapacité de comprendre pourquoi cet hélicon qui était un 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 du 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 métal était venu à Rome et même ce qui est plus grave il se pose même par la question finalement c'est une anecdote mais derrière ça il n'y avait pas du tout l'idée qu'il puisse y avoir un apport non seulement ethnique mais à plus fortes raisons culturelles de la part d'une population comme les beaux-lois alors c'était le cas pour Rome mais c'était le cas aussi pour la région qui nous intéresse ici merci je vous y dirai c'est le père et c'est le père